La Caritas Diocesana di Ugento, Santa Maria di Leuca, chiede alle autorità competenti che vengano allestiti al porto strutture idonee per accogliere i migranti che sbarcano sulle coste salentine. Da inizio anno ad ora gli arrivi sono stati più di 300, il servizio di Alba di Palo. Hanno assistito da gennaio a oggi 386 migranti approdati sulle coste salentine dopo aver attraversato il mare e le sue paure. Gli hanno rifocillati e spesso consolati e ora si appellano alle autorità competenti per avere un aiuto. Sono i volontari della Caritas Diocesana di Ugento, Santa Maria di Leuca. Facciamo appello, spiega Don Lucio Ciardo, direttore della Caritas Diocesana, affinché le autorità competenti realizzino quanto prima nel porto di Leuca un luogo attrezzato per accogliere i migranti, anche temporaneo, e dei bagni chimici, tenendo presente che molto spesso arrivano donne e bambini che hanno viaggiato in mare per giorni e giorni in condizioni estremamente precarie. I 386 migranti accolti finora sono arrivati sulle spiagge di San Gregorio, Leuca, Torre Pali, località Ciolo e a San Foca e provenivano prevalentemente da Iran, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Iraq, Egitto, Sri Lanka, Siria e Kyrgyzstan. Molti sono minori stranieri, non accompagnati. È stato aprile il mese in cui i volontari hanno registrato più arrivi, quasi 200 le persone, approdate in Puglia. Al momento dello sbarco il nostro mediatore culturale cerca di comprendere da dove arrivano, spiega Don Lucio. Li rassicura che saranno ospitati in un centro e fa sentire insieme a tutta l'equipe Caritas l'interesse per loro. Si rimane accanto a loro fino alla partenza del pullman, che riporta al centro Don Tonino Bello di Otranto e i nuclei familiari alla masseria Gherni, a Lecce. Assieme ai volontari della Caritas ci sono forze dell'ordine Croce Rossa Italiana, Frontex e il 118. Don Lucio chiede la possibilità di avere un intervento più immediato anche dell'ufficiale medico del territorio, perché finora per lo sbarco si è dovuto attendere l'arrivo del personale sanitario da Lecce o addirittura da Brindisi, con ulteriore disagio per le persone arrivate. La Caritas diocesana ha soccorso il 535 migranti nel 2018, 861 nel 2019 e 1.204 lo scorso anno.